Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate innanzitutto di sostenerci con ammirazione per questo importantissimo video, e lo seguirò con il maggior numero possibile di italiani onde evitare maltempo e improvvisi temporali. Ha colpito l'Italia, a partire dalla sera di venerdì 30 giugno 2023, e le prime ore di sabato 1 luglio si intensificheranno maggiormente, con piogge molto abbondanti che porteranno inevitabilmente a massicce alluvioni in un gran numero di regioni, a causa delle enorme quantità che lo stesso modello disegna in un breve periodo, venerdì sera e notte fino a sabato mezzogiorno. E sempre secondo la stessa fonte, saranno fortemente preoccupate le regioni del nord e del centro, che si troveranno di fronte a un'allerta rosso e arancione del pericolo di temporali e grandinate di medie e grandi dimensioni, e del pericolo di formazione improvvisa di uragani, alcune aree sparse da sud riguarderanno oltre al nord della Sardegna, ma le piogge saranno più potenti e violenti al nord e al centro, e come dicevo con severi avvertimenti del centro europeo del rischio allagamenti, e ci metteremo a confronto con voi con un altro dettagliato bollettino delle prossime ore per quanto riguarda le zone proprio interessate a questo tempesta, e alla fine sei in buona salute.